Oggi saluto tutti gli ascoltatori con la parola tratta da Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetti 24-28. Ma io non ne tengo alcun conto, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della Grazia di Dio. Ecco, ora so che voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il Regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il Consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti Vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue. Cari fratelli e sorelle, cari amici, oggi per il momento la mia voce risuona per l'ultima volta alla radio. Il mio cuore è triste perché sento il legame con tante persone dell'Est e dell'Ovest, del Sud e del Nord. Oggi vorrei cogliere l'occasione per riassumere tutto ciò che il Signore mi ha dato da fare e ciò che mi è stato permesso di fare per Lui per grazia, o ciò che gli ha fatto attraverso di me. Paolo poteva dire È assolutamente vero che il 2 aprile 1962 ho sentito la voce del Signore con le mie orecchie. Le parole pronunciate furono le seguenti Servo mio, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. La voce del Signore era così chiara e distinta che avrei potuto scandirla in base all'enfasi. La voce era determinata, l'autorità mi ha colpito profondamente. Non vidi né una figura né una luce. Dopo che il Signore ha pronunciato le parole appena citate, accadde qualcosa di straordinario. Ero fuori dal corpo e poi ho pronunciato le parole Non potevo sapere che il Signore avrebbe parlato ancora. Ma ora la voce del Signore risuonò di nuovo Servo mio, verrà il tempo in cui ti ascolteranno. Sta per arrivare una grande carestia. Fate scorta di cibo e provviste, perché allora tu starai in mezzo al popolo e distribuirai il cibo. Non sapendo quale potesse essere il significato esatto, nel dicembre 1962 mi recai dal fratello Branham negli Stati Uniti per chiedergli specificamente riguardo a questo. Ma il Signore gli aveva già detto e rivelato tutto prima del mio arrivo. Non ho avuto bisogno di dirgli altro. Lui mi disse quello che il Signore mi aveva detto. Poi disse, fratello Frank, la carestia non è una carestia terrena e il cibo non è un cibo terreno. Lui proseguì dicendo, Dio manderà una fame per la sua parola. Il cibo che devi immagazzinare è la parola stabilita e rivelata da Dio per questo tempo. Come l'Eterno ha rivelato in ogni tempo il suo consiglio ai suoi servi, così ha fatto anche in questo tempo. Posso solo testimoniare che la pubblicazione dei sermoni e dei libri in lingua tedesca del fratello Branham si è rivelata una grande benedizione per molti. Che Dio abbia mandato una fame di ascoltare la sua parola rivelata è noto a tutti coloro che hanno visto persone viaggiare per centinaia di chilometri per essere sotto le cheggiare della parola di Dio. Per la grazia e la potenza di Dio ho svolto la mia missione al meglio delle mie conoscenze. Ora ci sono 25 paesi e molte città in cui mi è stato permesso di predicare la parola di Dio. Posso dire con la coscienza pulita di aver predicato l'intero consiglio di Dio. L'enfasi naturalmente era su ciò che Dio aveva promesso per quel tempo. Paolo dice nel versetto 32 Ed ora fratelli io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Chiunque sia stato lavato dalla sua colpa e dal suo peccato grazie al potere purificatore del sangue di Gesù Cristo il figlio di Dio e si lasci santificare dal potere purificatore della parola di Dio avrà ricevuto una ricca benedizione da tutto questo. La mia preghiera è rivolta a Dio che sta completando il suo consiglio salvifico in questo tempo affinché tra i suoi eletti, santi e amati si compia la sua santa volontà e si manifesti la sua potenza. Che la natura del nostro Signore Salvatore si trovi in tutti coloro che lo professano che il suo amore, la sua fede, sì che egli possa rivelarsi nuovamente alla fine del tempo della grazia come ha fatto all'inizio. Che la sua parola chiara, pura e santa torni ad essere la spada dello Spirito tra i suoi. Da parte mia non ho risparmiato né sforzi né tempo ma ho dato un impegno totale e completo nel nome del Signore alla causa di Dio per l'edificazione della Chiesa. Il mio conforto è che staremo davanti a Dio per la sua parola e la sua grazia per chi ora è stato predicato come all'inizio. Sono molto grato a Dio per la rivelazione così profonda del suo consiglio di salvezza in questo tempo e per le grandi opportunità che ci sono state offerte di diffondere la sua parola in tale misura. L'amore e la comunione tra coloro che hanno compreso Dio nella sua opera in questo tempo è semplicemente gloriosa. Paolo era sicuro della sua causa. Lui poteva dire perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti. Certamente aveva in mente le parole del profeta Ezechiele capitolo 33 versetti 7-9 Dio il Signore ha posto sulle mura di Sion le sue fedeli sentinelle che suonano la tromba. È estremamente importante ascoltare il messaggio che Dio il Signore ha da dire ai suoi adesso. Sappiamo dalle scritture che Dio ha sempre inviato i suoi servi e profeti con la rivelazione della sua parola e della sua volontà. Gesù Cristo è lo stesso e si fa conoscere nello stesso modo. L'ammonimento chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese dovrebbe arrivare al cuore di ogni figlio di Dio. Il Signore ha dato ai vincitori la promessa. solo chi ascolta ciò che Dio ha da dire è in grado di vincere attraverso la parola e la potenza del sangue del Signore. Cari fratelli e sorelle abbiate il coraggio anche se siete soli o addirittura disprezzati di aggrapparvi a Dio e alla sua parola. Vale la pena di essere fedeli. Chi persevera fino alla fine sarà incoronato. Oh che giorno glorioso sarà quello in cui tutti gli eletti saranno riuniti davanti al trono di Dio. Che queste predicazioni possano contribuire a un ricco frutto di questa generazione per glorificare il Signore alla prima risurrezione e al rapimento. Concludo queste conferenze con la coscienza pulita davanti al Dio Onnipotente. Mi presenterò davanti a Dio con tutto ciò che ho detto e così anche coloro che vi hanno creduto. Perché è semplicemente la parola di Dio. Sono molto grato a Dio per l'invio del suo fedele servitore profeta il fratello Branham e per tutte le cose che ci sono state presentate dal ricco tesoro della parola di Dio. È un alimento fresco della parola di Dio rivelata. Dio vi benedica. Amen. Buongiorno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.